andiamo mio amico però un massacro per quell'azzo di che si divertirà le nostre spalle sicuramente se paura ha già parlato e se lui parla siamo rovinati io scopriamo che uno sviluppatore è fortissimo ma distrugge tipo tutta la mappa da solo giorno 15 c'è un altro grande update ci parleranno altre cose oh shit oh shit non vedo dove cazzo sto atterrando sembrerebbe di no levate da qua perchè allora io direi che va bene ok avete già fatto la prima cosa si avevo tanto un'armoseggetta finiamo con questo nido che siamo qua proprio dove sono i nemici grossi ma io ho un'idea ma che cazzo un po' di noi è morto t4 è morto così che è un bel inizio richiesta di arma ausiliaria richiesta di arma ausiliaria richiesta di arma ausiliaria richiesta di arma ausiliaria ma perché ho perso Oh, io ci sto capendo un cazzo Io sì, ci sto andando a prendere come una cozza Ah, lì c'è un impalatore di merda Lascialo stare l'impalatore Che lascialo stare o lo dobbiamo eliminare Io ho lanciato una 500 Perché non è... Beh, la 500 è un utilitario, cazzo Levatevi dalla Qualcuno ha, qualcuno ha dei rifornimenti Qua qua, vieni Puoi pingarli Qua qua, le dobbiamo diventare Ok, grazie Anche se sono rimasto senza un cazzo Oh, shit Oh Ma dai, ma no Cioè, è venuto Ma vaffanculo Cioè, tu non hai capito cosa ha fatto sto coso artiglio di merda Cappo, andate, hanno tirato una 500 proprio addosso Ecco, a me Sì A posto, non ti ho qua, sono sopra di su Cioè, sto 500 non hai capito che ha... Sto artiglio non hai capito che ha fatto È venuto da me Per darmi l'ultimo colpo di grazia e dopo morire Eh, si sono rompi i coglioni Infatti io mi sono preso l'abitudine di colpire gli alfa alle zampe, non alla testa Perché se li colpisce alle zampe Vanno più lenti e basta gli rompi le due anteriori non muoiono Sì, vedi che ti attaccano anche da morti Sì, vi avviso che sta arrivando un altro enorme Io mi sto allontanando dalla Sto andando verso l'obiettivo Volei, io non ci sto capendo un cazzo Ci sono nemici pressoché ovunque No, perché là è vicino all'accampamento grosso Ma ti sto andando verso l'obiettivo Ragazzi, mi devo uccidere quel cacchio di cosa Ok, è morto Chiedo armi avanzate No, non ci sto andando verso l'obiettivo 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 Ma direi che è sprecatore orbitali a minchia Ossetra ma c'è pioggia acida ok la pioggia acida indebutisce l'armatura sia i nemici che a noi si il problema è che mi ha fatto andare in fiamma lo so che a pezzo sia morto metto un segno sud est metto metri ho finito il comando però penso che orpitali in arrivo segnalo la posizione seguimi metto un segno l'obiettivo secondario vicino non quanta merda non vedo niente cazzo si siamo direzione sole attento ultima carica morto maria fa tanto rompergli le gambe costo mi aveva caricato io lo zoppolo tutto poi diventa lentissimo attraverso 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 mi sono buttato io che sapevo che non mi avrebbe raggiunto questa è una seccatura perché mi rara da un po' per entrare di rompere due da più complicato però bisogna di rifornimenti grazie ci prendiamo questi ci prendiamo questi si si richiesto di arma ausiliaria oh shit a shiny low is trance c'è un puzzone che è morto c'è un posto se paura otto ha fatto esplodere con un coglione non ho capito come ma non lo so neanche io so soltanto adesso è esploso vado volanti ok e che io ti odio non ho fatto niente hai messo la torre non ho messo lontano non pensavo che raggiungi sto zona rostro c'ha massacrato a tutti ci ha massacrato a poco fa lo sparò non capisco perché adesso si comando questo dove sono i e che cazzo ragazzi affanculo e abbandono c'è un segno bisogna di qualcosa ma sono appena spavolato quando tutto guarda ah ho capito forse ha fatto rimbalzo perché ora la tesla rimbalzo su più nemici magari c'era qualche nostro alleato là ha fatto tipo da ponte ha fatto da ponte e il culmine a tre dei massacrati eh io sono morto pure quindi secondo me uno dei nostri alleati avrà fatto tipo da ponte e ci ha portato lo scarico a noi lancio granata ritorno 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 in fiamme e stavo volato il battano ritorno a gas come vedete sono vero sono efficace da morire oh shit tu la torre testa la devi buttare in mezzo ai nemici vabbè dalla torre testa in mezzo ai nemici e che il tempo che esce la volta distruggono e vabbè ma a meno evitiamo che distrugge tutti noi oh shit shit tutto sincerità lo sfangato ma vaffanculo se bauton se bauton su coglione se bauton no sembra il nome di un transformers mi sembra il nome di un ma poi questo qua si è giocato tutti i laser cioè i laser ne possono tre in una partita le giocare tutti adesso no no che cazzo fate che che mi ha dato un colpo con il corpo di casa con il corpo di casa con il corpo di casa cazzo ma sono incoglioniti i miei i nostri compagni io non lo posso sapere da ma ci sono serie possibilità che lo sia ma che granata ma che granata richiedo armi avanzate rinforzi 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 alla fine giuro testa di cazzo rinforzi ricchiata di orbitan colono in pentagonia pure clock morire sia tutta stated pr ag ferro rinforzi i hanno seguito il tuo consiglio cazzo è che non è arrivato qua ma per quanto riguarda la strada il papa g non so se sopravviviamo a questa guerra le risate che mi sento facendo fare sti due rinforzi eh non so che mi spara a me Catrice non ti preoccupare non ti devo bentare richiedo una sentinella oh mio dio per la prosperità per la libertà per la libertà per la libertà grazie davide riuscire non so come ma mi è ucciso per la libertà c'è un'altra cosa per la sua posizione si aspetta e vai di cosa c'ho qua si la morte per la libertà rimasto il tuo corpo allora siamo mandata ok un titolo ok l'ho buttuto io ho buttato pure quel coglione Sì, sono venuti di sopra. Sì, sono venuti di sopra. E... decisamente mi sono arrivati alle spalle figli di buttano. Siamo morti da... Sì. Mi sono arrivati alle spalle. Cerca di allontanarti il più possibile, Davide, sono l'ultimo invito. Sì. Zero chance. C'hai credo un impalatore che ti stai sapendo. Alstra Burner mio là, ti sta accusando di averlo bruciato vivo. Ma no, una volta, un bel paio di volte. Beh, ma c'è fatto spiegare vite da un'uomo. Eh, ma sti cazzi, è trovere che mi ammazza, mi prenda colpi di fucile. Sopporto aereo. Ma che ho che sento nemici vicino a te, dai, guardati intorno. Sì, ci sono... No, lo so che ci sono nemici ovunque. Eccoli, ma vabbè dove sono. Come on, Davide, come on. Non ho male le sue priorità. E prima la sentinella e poi il rinforzo. Mi butto nella misca. Oh crap. Cazzo, la tua torretta mi ha ucciso, no. Ma perché sei andato verso la torretta? Perché dietro avevo la torretta e davanti avevo uno sciame di nemici. Che cazzo dovevo fare? Allora, che è colpa via. C'è un irruzio insetti da quella parte, è tornato da un nuovo porto opposto. Qua qualcosa la devo puffare, eh... Se non li elimino... Pericatore è vuoto! Minta! Ho una ferita aperta! Mordi! Mordi! E la tragedia ci ha colpito. Ma domani, sapremo vendicarci. Ahia bambini! Ma che potere! Ahia bambini! Ahia bambini! Ahia bambini! Ahia bambini! Ahia bambini! Guarda come banchettano sul tuo culo! Non ci sono i rinforzi! Ahia bambini! Ahia bambini! Ti stanno usando Davide! Ci stanno usando Davide! Grazie a tutti.